Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, io sono Missa Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito BBcraft, andremo a realizzare un fiocco di neve, già in passato avevo realizzato diversi fiocchi di neve, non so chi ricorda, questo è il primo fiocco di neve che ho realizzato e per chi fosse interessato questo qui ho realizzato uno schema, questo è il retro appunto del fiocco di neve, poi ho realizzato anche questi piccini piccini per degli orecchini, davvero molto carini e leggeri e adesso volevo proprio realizzare qualcosina di estremamente semplice per l'albero di Natale o anche come pendente, perché no? E quindi è nato questo fiocco di neve con dei materiali molto molto semplici, solo cipollettini in due misure e delle 8.0 e ho creato appunto questa versione appunto di fiocco di neve, quindi che va un pochettino a completare tutti i fiocchi di neve, cioè quello più complesso, quella versione più semplice da portare come orecchino e poi la versione sia come pendente o anche come decorazione per l'albero di Natale, perché no? Ne stavo creando anche un'altra adesso che sto registrando appunto questo tutorial ed è questa qui appunto con le gocce, ovviamente come spiegavo anche a fine video devo ancora andare ad ultimare questo fiocco di neve qui perché sto pensando di fare ulteriori passaggi per andare ovviamente a fissare per bene le gocce che sono belle pesanti e quindi pensavo di fare non solo una decorazione come ho fatto qui con le perle per andarle appunto a creare un supporto, vedete, a renderle belle rigide e ferme, questo davvero sono soddisfatta, questo ciondolo ogni volta che lo guardo me ne innamoro ogni volta e è stato davvero il mio primo esperimento come per realizzare dei fiocchi di neve. In questo caso sono partita proprio con l'idea di realizzare qualcosa di estremamente semplice adatto appunto a chi inizia adesso a pernare e quindi è nato questo fiocchettino che è davvero molto carino, poi dopo andrò anche ad aggiungerlo appunto all'albero di Natale, davvero semplicissimo, molto luccicante quindi credo che starà bene nell'insieme di tutte le decorazioni che ho creato quest'anno con la resina e non ho creato appunto con la base oro perché ho molte decorazioni con base oro e quindi ecco perché non ho scelto l'argento come in questi due casi qui. Per quanto riguarda il materiale per poter realizzare questo fiocchettino l'ho preso ovviamente da BBcraft, questi sono i cipollotti, questo è il codice, sono esattamente 10 fili da 4x3, all'interno c'era anche la tonalità appunto crystal, ma ci sono davvero tantissimi colori. Poi ho scelto questi altri cipollotti, sempre dei BBcraft, non ricordo il codice ma vi metto sempre il link giù in descrizione, questi sono da 6x4 e sono appunto bianchi sfaccettati e poi come perline ho utilizzato solo le 8.0, quindi solo le 8.0 come perline. Per quanto riguarda invece la versione questa qui con le gocce che poi dopo andrò ad ultimare, ho utilizzato anche le gocce sprese sempre da BBcraft. Ho scelto questa confezione, davvero molto interessante con tutti questi colori di gocce, molto molto carine e ho utilizzato appunto queste qui crystal, anche di questo vi metto sempre il link in descrizione. Adesso vi lascio al tutorial. Inserite 6 rocaille 8.0, le portate alla fine del filo, rientrate tutte le perline andando in direzione opposta ed effettuate 3 nodini. Questo è il risultato, ho chiuso la lavorazione al cerchio ed unito anche i fili con un altro piccolo nodino. Inserite questa sequenza, un cipollottino da 4x3 crystal, una rocaille 8.0, un cipollottino 4x3, un cipollotto da 6x4 e di nuovo un cipollottino da 4x3, un 8x0 e un 4x3. Questa qui è la sequenza appunto e rientro nella stessa perlina da dove fuori esce appunto il mio filo, cioè questa, andando in direzione opposta. Ed ecco qua, in questo modo. Adesso rientro con l'ago e con il filo anche nella seconda 8.0 che viene subito dopo. Adesso inserite questa sequenza qui, un cipollottino da 4x3, un 8x0, un 4x3, un 6x4 e un 4x3. rientrate con l'ago in questa 8.0, in questo cipollotto, in questa 8.0 e in quest'altra 8.0. Quindi rientrate esattamente in queste 4 berline. In questo modo. e questo è il risultato. Adesso di nuovo la sequenza, un cipollottino da 4x3, un 8x0, un 4x3, un 6x4 e un 4x3. È la stessa identica sequenza e mi rinfilo ugualmente nelle stesse perline. Quindi nella 8, nel cipollotto, nella 8.0 da dove fuori esce il mio filo e nella nuova 8.0 in queste 4 berline. Vado avanti con la lavorazione inserendo sempre la stessa sequenza. Tiro bene il filo e questo è il risultato al momento. Vado a lavorare l'ultimo spazio. Quindi a questo punto rientro nel cipollotto, nella 8.0, inserite un cipollotto da 4x3, uno da 6x4 e un altro da 4x3 e rientrate ovviamente nella 8.0 laterale, nel cipollotto questo, nella perlina 8.0 in basso e rientrate di nuovo in queste perline laterali e di nuovo in quelle appena inserite. E tirate per bene la lavorazione. Adesso giro il lavoro per comodità, mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina. Adesso passo in queste perline esterne due volte. Quindi basta soltanto ripassare con l'ago e con il filo senza aggiungere alcuna perlina. Quindi ripasso sia nei cipollotti grandi e nei cipollotti piccoli due volte. Questo è il risultato. Adesso fuoriesco da questo cipollottino qui bianco da 6x4 ed inserite appunto questa sequenza. Un 8.0, un cipollotto da 4x3, uno da 6x4 e 3 rocaille 8.0. Portate tutte le perline alla fine del filo, rientrate solo nel cipollotto questo qui bianco grande, di nuovo un cipollottino da 4x3 e un 8.0 e rientro nel secondo cipollotto bianco. Tiro bene il filo e ho creato la prima punta del fiocco di neve. Quindi adesso di nuovo un 8.0, un cipollotto da 4x3, un cipollotto da 6x4 e 3 rocaille 8.0. Le porto sempre alla fine del filo, rientro solo nel cipollotto da 6x4, tiro bene il filo, di nuovo un cipollottino e un 8.0 e rientro appunto nel cipollotto bianco che viene subito dopo. E tiro bene il filo. Proseguo con questa lavorazione fino alla fine del giro. Questo è il risultato ed eccolo qui, ho realizzato appunto tutte le ponte, poi sono ripassata all'interno della lavorazione dell'ultimo giro con l'ago e con il filo senza inserire alcuna perlina, sono ripassata anche con l'ago e con il filo anche nei giri quelli lì interni alla lavorazione e poi ho tagliato semplicemente il filo in eccesso. E il nostro piccolo fiocchettino di neve è completato. Volevo davvero realizzare qualcosina di estremamente semplice, adatto anche a chi ha iniziato a perlinare ieri. Ecco, niente di complesso, un progetto alla portata di tutte e possiamo realizzare tantissimi fiocchettini di neve e poi ovviamente andare a decorare il nostro albero di Natale. Ne stavo realizzando anche un'altra versione con le gocce, un po' più grande, aspettate che provo a fare un po' più grande. Ovviamente devo fare qualche modifica, devo andare a fare un altro giro per andare a creare dei supporti per le gocce perché sono belle e pesantile e siccome ho terminato il filo devo andare a bloccare prima questo e poi capire come andare avanti con la lavorazione. Questo è un piccolo esperimento che sta proprio nascendo adesso che sto realizzando appunto il tutorial di questo piccolo fiocchettino. Niente ragazzi, io spero che questa piccola pillola creativa sia stata di vostro credimento. Ripeto, non è nulla di complesso, è un progetto davvero semplicissimo. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao! Grazie a tutti!